Gabriella è come se fosse una mamma che insegue sempre un po' il fatto di poter essere una mamma fatta bene, una mamma giusta. Un rapporto dove sono lei e la figlia, cresciute per dieci anni da sole in casa, in questa provincia veneta, con la presenza che può avere una madre che lavora tutto il giorno in fabbriche. Amore dove sei? È legatissima ad Alice. Nello stesso tempo è piena di sensi di colpa. La fa un po' penare questa madre, Alice. Alice! Alice! Nello stesso tempo è il risultato di quello che lei ha fatto e lei lo sa questo. Proprio per questa menzogna raccontata per tanti anni, detta appositamente per proteggerla. Devi essere come sei di solito. Ali, sei bene? Nell'arco della storia c'è una specie di evoluzione di questo rapporto che è partito dalla menzogna e lentamente si trasforma e diventa un rapporto dove il legame c'è sempre, però c'è anche la possibilità di dirsi un po' di più la verità. Dovevamo proteggerla, dovevamo prenderci cura di lei. E la cosa bella appunto è che questa allegria tra di loro non muore mai. Sì, punto il coltello per difenderla, però poi alla fine le dico ci rivediamo da Alice. iscriviti al Canadianse! Grazie a tutti